Sono tra i 140.000 e i 170.000 i pazienti con psoriasi in Sicilia. Malattia infiammatoria della pelle dovuta ad una reazione nel sistema immunitario, inguaribile e spesso invalidante. Parliamo di 140.000 e 170.000 pazienti, dati proprio certi non li possiamo avere al numero preciso. Certamente un paziente su 4, un paziente su 5 è a rischio di artrite psoriasica, cioè non solo della malattia cutanea ma della malattia articolare infiammatoria. La malattia psoriasica come malattia cutanea parla, anzi spesso possiamo dire che grida perché la cute è colpita non solo nelle parti nascoste ma può essere anche molto evidente. Nell'artrite psoriasica invece le cose sono un poco più complesse, nel senso che può colpire le piccole articolazioni, le grandi articolazioni, colpisce i tendini, lì dove si possono anche inserzionare, cioè a livello dell'osso, ma può manifestarsi per esempio con un episodio di dattilite che è molto semplice, cioè il cosiddetto dito a salsicciotto. È un dito che gonfia completamente e che somiglia della mano, del piede, che somiglia proprio a un piccolo salsicciotto. Certamente c'è una relazione tra la malattia cutanea e l'artrite psoriasica, anche se ci sono forme di artrite psoriasica senza la psoriasi, in presenza magari di una familiarità per psoriasi, cioè ce l'ha qualche parente e allora è possibile, secondo determinati criteri, che quel singolo paziente possa rientrare anche in questa condizione. In realtà la malattia cutanea molto spesso predispone a questa forma di artrite e dobbiamo considerare due situazioni differenti, che sono la psoriasi dello scalpo, cioè quello del tessuto dove abbiamo i capelli, che predispone molto all'artrite psoriasica, aumenta notevolmente il rischio di artrite psoriasica e la cosiddetta psoriasi ungueale, in cui le alterazioni delle unghie anche qua predispongono all'artrite. Il paziente deve sapere che modernamente parliamo di malattia psoriasica, perché non solo la forma cutanea e non solo la forma artritica che caratterizzano questa condizione, ma anche un'aumentata incidenza e prevalenza di malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, quindi parliamo anche di eventi cardiovascolari come può essere l'angina e l'infarto, parliamo di ictus o di eventi schemici transitori per quanto riguarda il sistema nervoso, ma parliamo anche di condizioni metaboliche, come la sindrome metabolica che è caratterizzata da tante alterazioni come aumentata pressione arteriosa, aumentata glicemia o il diabete naturalmente, problematiche lipidiche e non ultima per importanza anche l'obesità centrale, cioè quell'obesità della pancia. Ci sono altre condizioni, ce ne sono tante altre, sicuramente non dobbiamo dimenticare neanche la predisposizione alla patologia oncologica e ci sono certe forme di linfoma o certe forme di tumori cutani, non melanoma, che si associano a questa malattia psoriasica, quindi è importante fare un controllo internistico al paziente che può avere una condizione dermatologica o una condizione reumatologica. Il sistema sanitario ha previsto in maniera capillare centri sia di dermatologia che di reumatologia, sono presenti in tutte le aziende osperaliere, in tutti i centri universitari, anche lì dove non ci sono le aziende osperaliere e ci sono semplicemente le aziende sanitarie provinciali, ci sono degli ospedali che sono deputati alla cura del paziente dermatologico e del paziente reumatologico. Nella nostra struttura, l'azienda civico, abbiamo un percorso che segue il malato psoriasico, che viene visto dai dermatologi, che viene visto dai reumatologi e che poi fa tutta una serie di controlli internistici per riportare all'unicità e alla centralità del paziente quelle che sono delle malattie che per quanto importanti naturalmente debbono essere sempre viste dal punto di vista della persona. La persona al centro, non la malattia, la persona al centro per poter curare meglio tutte le condizioni che sono associate. Probabilmente vent'anni fa non potevamo offrire molto a questi pazienti se non classiche cure. Dal punto di vista tecnologico invece si sono implementate nuove terapie con biologici o con farmaci sintetici che possono essere considerati di ultima generazione. Tra queste ci sono dei farmaci che vanno a bloccare le citochine, che sono delle sostanze che provocano l'infiammazione. Anche l'esperienza riguarda ormai un poco tutti i farmaci che sono in commercio per questo tipo di patologie, che vengono prescritti dai centri a cui facevamo riferimento prima. La cosa interessante è che tra questi ci sono alcuni farmaci come gli anti-intellochina 23 che hanno degli aspetti molto interessanti perché questa è una citochina che ha a che fare anche con problematiche metaboliche e con problematiche naturalmente di funzionalità dell'endotelio e quindi questi nuovi anti-citochina possono offrire dei vantaggi, cioè curiamo una cosa ma cerchiamo anche di controllare le altre condizioni. Dobbiamo dire comunque per verità scientifica che bloccare l'infiammazione e far migliorare il paziente assieme a un buon controllo internistico, quindi non solo dermatologico e reumatologico, sicuramente assicura una migliore qualità dell'assistenza comunque.